Il Consiglio dovrà, secondo noi, dare l'impulso politico per accelerare l'adozione di iniziative da tempo in discussione, come il pacchetto antifrodi in materia di IVA, che include due proposte di direttiva relative rispettivamente all'introduzione di un meccanismo di reazione rapida per adottare misure di contrasto a nuove frodi improvvise e all'applicazione opzionale del meccanismo dell'inversione contabile in taluni settori esposti a rischio di frodi. Grazie.